cari videogiocatori e cari videogiocatrici ben ritrovati sul mio canale per proseguire con crimson snow seconda parte secondo episodio siamo inseguiti dalla moglie di freddy krueger sì perché ha degli artigli veramente enormi questa qua siamo dentro una stanza protetta per ora ma io adesso devo per forza aprire e nascondermi perché quella sente subito ogni minimo rumore ok speriamo che funzioni c'è un po' troppa luce potrebbe anche vedermi la signorina io non sono qua ma non sto scappando è perché prima mi hai fatto male assolutamente no 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 e poi questa qua fa ci succhia il sangue fa dei succhiotti da paura dai ok adesso lei torna che ronda fa non lo so neanche io se uscire adesso me la ritrovo qua si sta tornando sta tornando un attimo no devo capire il suo percorso ok torna dentro no non entra resta fuori ok 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 quindi poi va avanti perché si infatti allora da qua non posso andare quindi proverò ad andare da questo lato però ho perso il tempo no e adesso le torna indietro vero vediamo un po' quanto ci mette ce n'ha un po' eh in questo genere bisogna attendere in questo in questa tipologia di videogames ok bisogna avere pazienza aspettare e poi andare allora credo di aver capito a questo punto se tanto non si gira quindi posso starle dietro e poi vado dall'altra parte in fondo al corridoio perché lei va di qua ok vediamo un po' dovrebbe andare di nuovo la verso le doppie porte si no non è necessario accendere se non mi vede no ma non mi vede lo stesso quella è abbastanza ok vado da questa parte sente solo i rumori quando apriamo le cose troviamo le palle ma per il resto è abbastanza stupida l'intelligenza artificiale è quella che è ok ah di là ci sono le catene quasi quasi metto l'altra palla visto che ok se io adesso vado di là verso destra e utilizzo il tagliabulloni quella mi sente appena spezzo la catena forse non ha sentito non c'è stato nulla ecco è qua la palla c'è sento la musichetta dov'è sembra da questa in questa direzione forse qua no in alto forse non c'è lei vero no 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 non viene a quanto pare non viene rimasta di là forse è troppo lontana non ci sente ok eh sì non pericoli non ce ne sono devo se prendo la palla lei arriva com'è non lo so ha un un razzo e dammelo dammi le le scintille delle cose la fontanella ah era qua in mezzo ai panni sporchi da lavare sì ok io vado eh corro si fa per dire visto che il nostro personaggio non corre cammina magari mi chiudo per un po' di privacy ok abbiamo fatto e ora abbiamo già finito il gioco sarebbe troppo corto non penso abbiamo trovato le decorazioni natalizie questi giocattoli provengono dall'albero di natale e a casa di joyce quella pazza ha detto qualcosa riguardo alle decorazioni di un albero se lo faccio forse si distrarrà e io potrò sgattaiolare via e beh si potrebbe funzionare questa è una psicopatica si però aveva accennato qualcosa sul sull'albero sulle decorazioni perché manca mancano mancherebbero le decorazioni lagga un po' il gioco da dove arriva questa neve vabbè dettagli allora torniamo indietro da notare che la porta è sembra un portone blindato totalmente spessa ok non si può più e mi sa che adesso lei passa di qua mi fa un jump scare lo sento dai fammi lo scherzetto su forse no 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 non è successo nulla c'è una musica tranquilla perché mai dovrebbe attaccarmi in questo momento è talmente tranquilla qui ecco lo sapevo dai si me lo immaginavo è chiusa ma si vede un'unghia di lei vabbè gli artigli di freddi non esci vero no ah l'albero quindi lo possiamo decorare tanto chiudi per sicurezza ma mancano le decorazioni quasi quasi ok vediamo un po' fammelo vedere ah bello no Joyce non è mia amica non è uno scherzo cosa rispondo cosa rispondo cosa le dico ci saranno finali multiple in questo gioco non so cosa risponderle non è uno scherzo o l'altra no non è uno scherzo dai ma non lo so io si ah mi credi cosa succede mi sa che ha attaccato Joyce a sto giro ok posso squagliarmela forse visto che lei non è qua è tutto tranquillo tutto dove vado adesso di qua torna indietro non ci sei no non si può aprire quindi da questa parte niente e devo andare di là almeno adesso è addobbato è più carina l'atmosfera magari diventa anche più docile lei che ne so un po' scuro di là eh ma mi tocca mi tocca mi tocca eccola 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 lì che mi aspetta il varco bene e io eh ma sono in trappola cosa faccio no non si può andare fuori dalla finestra fuori dalla finestra no eh potresti sfondarla e uscire ma non hai questa intelligenza vero? eccola no 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 stai calma ho fatto l'albero io speriamo che la plachi stile posseduta ah grazie no 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 aspetta no cosa vuoi fare? no sono un po' arriva arriva verso di me vero? ah ma cosa sei? un ragno? come diavolo fa a rampicarsi? c'hai le ventose? vabbè ormai ah questo no non è forse un sigaro comunque eh ormai beh si sapeva già da l'inizio non è umana per me è una una specie di vampiro ma che ne so andiamo via amico ah siamo tornati all'ingresso siamo nell'ingresso qua ed esci no? eh non puoi uscire cos'è? no vedevo una luce intanto fuori imperversa una bufera ma io vado da questa parte ci eravamo già stati qui vedete lei non ama non ama le luci forti ma io vado da questa parte ci sono solo qua c'è solo qualche luce soffusa ma niente di più meno male che ne ho dieci quindi prima che li esaurisco tutti questi affari ce ne vuole di tempo ce ne vuole ce l'ho ancora il il tagliabulloni penso di si però mi da l'idea di una casa ormai abbandonata a se stessa vedete no? c'è tutte le stoviglie dentro i cassetti non lo so non lo so si l'avevamo già vista questa foto non sono i genitori di di Joyce questo quanto pare un amante della birra si si è tutto messo così non lo so abbandonato vedete sporcizie ovunque mi sa che questa casa lei l'ha occupata non ci vive era una casa abbandonata e l'ha adobbata per l'occorrenza per natale eh non posso andare da nessuna parte vero? devo allora posso tagliarla il post it? no ok si uuu il semi interrato e qua succedono sempre belle cose negli horror è sempre un posto accogliente caldo eh ma non vedo una mazza quindi no mi continuerò a tenere acceso il almeno fa un po' di festa questo affare ci da fragile ah altri due buono e beh ma mi pare giusto adesso che siamo in una zona senza luce ne consumerò un po' di sti affari ma lei dove è andata? è un po' troppo tranquillo è sali è entrata in quel condotto il condotto e poi ah ah Joyce Mark lei è qui ah no non mi tocchi ah non lo è no non lo è no sì ah non le piacciono le luci forti ok quindi è vero che non le piacciono le luci eeeh cosa le dico? non lo so forse era la mia ex Mark she can come back in any moment what should I do? mmm ma trova delle luci dei fuochi d'artificio visto che hanno funzionato sì se hanno funzionato prima va bene sì non rispondo non rispondo non devo rispondere a questo ok dai eh mi sa che era la tua ex questa qua la psicopatica a questo punto non mi stupirebbe ci sono diciamo degli indizi che portano a questo no? oppure uno scambio di persona ma non credo proprio ne dubito ah yeah c'è nessuno? no non c'è nessuno uh lì c'è un condotto potrebbe anche uscire da lì lei visto che è entrata in un condotto potrebbe uscire da un altro condotto sento dei rumori eh vabbè vabbè crolla tutto ditelo no? posso passare ancora ah sì posso passare bene e qua sicuramente succederà qualcosa è scontato dai dai non puoi non mettermi nulla qua qua succede qualcosa sono in una posizione poco consona eccola qua non mi hai spaventato più di tanto no? me lo immaginavo me lo aspettavo ok ok ora passa attraverso i condotti lei devo andare qua vero? vedo un qualcosa cosa una chiave eh qualcosa che luccica solo che devo seguire questi cavi? non lo so penso io eh penso proprio di doverlo fare eccola è uscita da qua bene e poi non l'ho capita sta cosa poteva benissimo prendermi prima ma cos'è? vuoi giocare al gatto con il topo? poteva ha avuto le sue occasioni ok fa il giro di lì poi va di là quella porta sarà certamente chiusa io vado da quest'altra parte che almeno sto al sicuro sono al sicuro qua spero eh non vedo niente non vedo nulla devo dove eh tanto lei non viene qua ok c'è nulla di interessante no? però la la zona è giusta il lato è giusto perché qua ci sono dei fili dei cavi dei cavi blu ok sono arrivato chi ah c'è lui il padre dentro quel sacco è qua ah una nota del dottore anche alla mia ex non piaceva il tempo soleggiato ma era l'ultimo dei suoi problemi siamo spiacenti di informarla che è a sua che la sua vista si sta deteriorando l'esame ha dimostrato che soffre di ipersensibilità alla luce così come qualsiasi fonte luminosa cordiali saluti dottor a ok dottor a ah quindi è vero ha problemi è un vampiro è un vampiro ha problemi con la luce aiuto ha sentito questa volta ha sentito ecco perché non ci vede a volte non ci vede ha problemi di vista e in più è fotosensibile ok non so le vado dietro o aspettiamo ma non lo so io vediamo un po' ah potrei infilarmi ok devo infilarmi in quell'altra stanza si potrebbe esserci il papà là dentro infatti c'è del sangue messo lì come se fosse un maiale non vorrei dire ma ah rientra dentro? ma io non sono qua tesoro oh nei dai vai 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 ah entra dentro lei ok allora vado da quest'altra parte ancora meglio faccio ancora prima facciamo ancora prima devo andare dall'altra parte e dovrei seguire in questo caso i i cavi rossi si e vedete adesso è verde una luce perché quella blu l'ho fatta e quelli blu i cavi blu adesso devo fare quelli rossi che sono da quest'altra parte certo si il lato è giusto qua invece abbiamo mmm vabbè vado vado direttamente tanto lei non c'è cosa ci fa un pc qua? ah è qua anche lei porca miseria porca miseria poteva prendermi mannaggia me eh ma che giro fa? vediamo un po' vediamo un po' se la vedo ah è uscita si da quel condotto ok si perché era dalla parte opposta prima un attimo fa questa esce dai fottuti condotti ma non viene quindi mmm quante candele? cosa stavi facendo qua? no stavi facendo un rito un rituale oh c'è anche un teschio bello io mi nascondo qua eh vediamo un po' sicuramente passerà anche da qua si si passerà anche da qui o forse no c'è nessuno ah si eccola 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 però va di la non entra quindi potevo anche non nascondermi ah no entra 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 no sta venendo qua per fortuna non ci vede tanto ha un problema agli occhi e non le basta di certo il collirio dai lasciamo la stanza con la stella a 5 punte andiamo da questa parte vediamo un po' cosa fa eeeh non la vedo penso che faccia un giro piuttosto lungo quindi avrei tutto il tempo si si no mi rimetto un attimo qua per vedere quanto ci mette ci ha messo tanto prima no perchè non vorrei fare un game over inutile aspettiamo un attimo no no ce ne mette di tempo ho tutto il tempo che voglio in questa fase non dovrei avere problemi e vai vai che ti vengo dietro dai per modo di dire eh non voglio farne il filo allora eeeh lei va di la giusto? quindi si fa il giro ok si semplicissimo vediamo un po' si non c'è allora vado io vado ci siamo ci siamo dai che ce la facciamo dai 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 ci sono vetri rotti un altro affare che fa luce qua mi posso nascondere dov'è il è la stanza giusta e qua c'è la madre c'è lei si perfetto eeeh arriva arriva va che torna come come si muove no questa volta mi becca eeeh surprise eh si game over? ho fatto game over? non dovevo no o si non lo so ah ma cosa ha preso? l'anello? l'anello destinato a Joyce eeeh io mi nascondo no non credo che sia necessario brava rimani lì in bambolata io me ne va corri corri hai sentito il rumore questa volta all'udito fine quando vuole lei dai 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 corri dove devo andare? dove era? non mi ricordo spero di trovare subito la strada ma da questa parte no mi sono per i cavi blu i cavi blu vai 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 forse mi sa che ho sbagliato però forse vado in un vicolo cieco si ecco ho sbagliato strada adesso lei arriverà vero? eccola qua ciao tira degli urli? questa allora riproviamo scusa ho sbagliato strada qui è praticamente impossibile non fare rumore perché ci sono tutti quei cocci è partita subito speriamo questa volta di trovare la strada la direzione giusta forse dovrei anche nascondermi non lo so mi fiondo direttamente no apriamo la porta io rischio mi gioco il tutto per tutto vai vai fai uno sprint per una volta vai no non è di qua stavolta vado da questa parte forse ci sono forse il lato è giusto si si è qua e qua e qua vai vai apriti vai 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 no io voglio la chiave la chiave dammi la chiave mi sembrava un po' troppo lungo quel braccio questa chiave mi aiuterà ad aprire quella porta decorata si e ma c'è lei lì è normale non sono io che fa da solo ecco un game over strano è come se mi avesse tirato verso di sé non potevo fare nulla e vabbè speriamo che mi dia almeno il checkpoint che mi abbia dato il checkpoint vediamo ah subito qua vabbè bene ok e lei è rimasta la ok d'accordo due game over ci possono anche stare poi se me lo da si va bene non toccare lo so sembra un braccio più lungo non è in scala è fuori scala ok dai e abbiamo fatto anche questa parte adesso posso aprire quella porta la c'era una porta decorata vi ricordate devo solo trovarla spero che lei non sia nei dintorni andrò ad aprire almeno la porta poi magari eccola la speriamo che non sbuchi da questo condotto o da questa parte non lo so l'importante è che non si faccia vedere vai è rassicurante dai i fuochi d'artificio scatola con fuochi d'artificio un'intera scatola di fuochi d'artificio se ha davvero paura della luce intensa mi torneranno sicuramente utili forse posso attenderle una trappola si potresti effettivamente dai andiamo si si Joyce dimmi ma più o meno si sto bene sono morto solo due volte si dai sto bene ha anche il dono dell'obliquità ah sta male e e ho trovato ho trovato dei dei fuochi d'artificio che fanno tanta luce si ho trovato dei fuochi si è bene ora abbiamo una possibilità possiamo farlo ho chiamato la polizia non so dove sei ora quindi gli ho dato mia addresa trovi una finestra che potrebbero saperti da te a secondo piano ok va bene dai mi fermo qua ha dato il suo indirizzo ma allora la polizia è da un'altra parte come farà a vedermi? non lo so questa ha detto che non è la casa di Joyce va bene spero che questa seconda parte di Crimson Snow vi sia piaciuta nella terza molto probabilmente lo finiremo lo finirò perché non è un gioco lungo si capisce ormai siamo agli sgoccioli però voglio fermarmi qua per oggi alla prossima ciao!